ciao ragazzi allora benvenuti il nostro fantastico etna comics allora intanto complimenti per il microfono occhio che troppo invadente questo microfono eeeh tenimelo distante che invadente proprio complimenti per la maglietta veramente fantastica non te l'ha detto nessuno ma è fantastico eh beh beh si prendete le magliette che sono un po di parte su un utopatri bellissimo geniale geniale fantastica anche i calzini facciamo notare la differenza cuoricini e non so cosa corriandoli sono fantastici allora domanda veloce panino con la meusa o arancino visto che panino con la meusa tutta la vita è proprio un cannaval è proprio un cannavazzo io preferisco preferisco l'arancina arancino dipende dove sono accattato mi mangio l'arancina a palermo l'arancina quindi io lo preferisco il pane con la meusa un po mi fa impressione poi da boh ecco questo mi potrebbero ripudiare a palermo per quello che sto dicendo però non lo diciamo tagliamo questa parte ok è piaciuta questa domanda è venuto un pitetto che non lo potete capire possiamo dire minchia non si può dire minchia di minchia ecco brava allora quale dei vostri sketch si vostro preferito praticamente fra tutti quelli che avete fatto sia web che magari quelli che avete fatto anche teatro quello che ho appena nominato rosy abbate è uno dei miei video cioè no è il mio video preferito perché a parte il fatto che abbiamo avuto la possibilità di fare un video di cinque minuti da cinque minuti che la gente ha seguito e ha visto che ha tantissime visualizzazioni nonostante il minutaggio ma soprattutto perché noi abbiamo avuto la possibilità di raccontare una storia sempre in maniera ironica sempre in maniera comica e lasciando il messaggio che avevamo intenzione di fare arrivare alla gente ci siamo sperimentati è anche una prova attoriale in un certo quel modo quindi questo è il mio video preferito e che devo dire il mio video preferito allora voi non ci crederete ma il mio video è anche rosy abbate e la mia risposta sarebbe identica a quella della vitra no mi piace veramente tanto perché abbiamo oltre ad aver fatto della sana comicità abbiamo anche toccato un argomento a cui teniamo particolarmente che insomma quello di dare maggiore valore alla nostra sicilia e non solo tramite i film mafiosi ecco quindi quello è un video che dice tanto quindi altra la comicità mi piace perché diciamo qualcosa in più ok ragazzi vi faccio un'ultimissima domanda abbiamo parlato del web il vostro successo del web fantastico complimenti siamo arrivati adesso al film ne avete parlato tantissimo ma di mezzo c'è il teatro ora questo teatro quanto è stato importante per voi intanto direi che non è di mezzo il teatro noi veniamo dal teatro abbiamo studiato teatro ed è lì che insomma ci piace stare ovviamente il web è un mezzo che stiamo utilizzando al fine di poter portare quanto è più gente possibile in teatro e poi speriamo al cinema però il teatro è il nostro primo amore il primo amore non si abbandona mai gli applausi non sostituiranno mai i like di facebook io piango però ma che cosa ha detto amore ma lo dovevi dire fin dall'inizio non solo l'ultima intervista tutti ti prego di nuovo è bellissimo stasera lo devi dire pure ricorda il bacino per ragione quello che ha detto è perfettamente vero e e torneremo e perché il teatro è la nostra base non è non è nel mezzo ma è sotto la base un saluto grandissimo a Sicilian Post dai Soddispitch e da Andrea ciao ciao